segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te genera conflitto maio ha scoperto l'acqua calda come il suo costume quando è condivisibile solo quando è banale ci mancherebbe ancora che il conflitto genera conflitto il problema però è che in questo momento vi è una situazione di stallo forzato io credo della della diplomazia l'annunciata escalation diplomatica è tramortita e purtroppo è abortita ancora prima di nascere perché non si inventa così con uno schemino fatto su un foglio di carta probabilmente stropicciato ma parte da un problema per fratelli d'italia cioè l'interconnessione di una globalizzazione selvaggia che ci ha reso fragili che però in questo caso potrebbe essere come diceva prima il direttore ha detto una risorsa cioè vi sono una serie di interscambi commerciali quasi fatali forzati che non debbono più rasentare la dipendenza ma che ci sono e che avrebbero consentito di in questa fase dopo aver inviato le armi dopo aver consentito l'ucraina di resistere come aggredita rispetto ad un aggressore probabilmente di aprire uno spiraglio diplomatico se però lo spiraglio diplomatico è la bozza che trionfalmente era stata definita escalation diplomatica di piano di pace di di nessuno ha visto però guardi non vorrei usare la retorica di chi in questo momento sta aggredendo l'ucraina ed è e secondo me unitamente alla cina sta dando l'assalto alla mia civiltà però siamo di fronte le parole di mevde sono disarmanti sulla proposta l'escalation di pace italiana e guardi non ci sono state verso biden quindi non è questione di guerra ibrida guerra di informazione il problema è che abbiamo raccontato in italia che avremmo assunto finalmente una azione diplomatica che però era quel che era e non tiene conto delle reali forze militari in campo e dei reali interessi economici che oggi potrebbero favorire anche anch'essi una via diplomatica purché vi siano certezze cioè scrivere vorremmo tanto i corridoi umanitari vorremmo cessate il fuoco ma ci sarà mica bisogno della farnesina del ministro degli estri ci mettiamo 5 minuti io e fascina qua e lo scriviamo anche noi ritengo che fosse una bozza debole troppo debole quella avanzata dall'italia fascina ritengo che